Digiuno ad intermettenza 5-2, 18-6, che cosa significa? Posso mangiare? È una dieta o altrimenti un biohack per migliorare la mia salute a 360 gradi? Con i miei nuovi webinar sulla mia palestra online nowgeocuper.com scoprirai non solo che cos'è la digiuno ad intermettenza, ma come applicarlo alla tua vita. Ci sono delle regole ben precise del digiuno e non è solo legato alle finestre di digiuno, ma anche quando devi nutrirti. Una cosa in più, digiuno ad intermettenza non è una dieta. Scoprirai la crononutrizione che è legata alla switch metabolica per riattivare il tuo metabolismo. Lo switch metabolico può innescare diversi stimoli e stressori bioenergetici per rallentare il processo di invecchiamento cellulare nel corpo, aiutandoti non solo a rimanere più giovane, ma aiutandoti ad avere un metabolismo più attivo. Tutti i webinar sono inclusi per i membri gold sulla mia palestra online nowgeocuper.com dove la salute non è solo una questione di allenamento, ma molto molto di più. Clicca qua per iscriverti subito.